Truffa al Servizio Sanitario Nazionale, un danno erariale per quasi 400.000 euro è stato scoperto dai militari della Guardia di Finanza di Lecce al termine di complesse e laboriose indagini. Secondo quanto accertato dalla sezione di Polizia Tributaria, l'azienda sanitaria rescese avrebbe sostenuto costi ingiustificati per l'assistenza di 1.674 pazienti, pazienti che in realtà risultavano deceduti da diversi anni. In altri termini, su 5.000 assistiti dai medici di base, almeno un terzo era composto da persone non più in vita e tanto per effetto del mancato aggiornamento degli elenchi da parte di impiegati della stessa ASL, una trentina in tutto, la cui posizione adesso è al vaglio della Procura regionale della Corte dei Conti. Nessuna collusione, nessun accordo con i medici di base, precisano i finanzieri. I camici bianchi, 400 circa, sarebbero stati coinvolti loro malgrado nel raggiro, ma nessuna azione legale è stata intrapresa nei loro confronti. Le indagini portate a termine in queste ore affondano le radici nel 1995, anno in cui è stata avviata l'informatizzazione delle liste, ma situazioni analoghe sarebbero state riscontrate anche negli anni precedenti. Secondo quanto è verso dalle indagini, solo nel periodo che va dal 1975 al 1990, sono stati circa 200 i pazienti non cancellati dalle liste o che sono stati cancellati tardivamente, talvolta anche 20 anni dopo rispetto alla data del decesso. In tutti questi anni, in pratica, gli archivi dell'ASL non sarebbero stati aggiornati del tutto. A confermarlo, anche la discrepranza fra essi e quelli dell'anagrafe tributaria, confortati dai dati forniti dai singoli comuni. E fra le città più colpite risultano Lecce, Squinsano, Gallipoli e Nardò.